Ciao a tutti, solo per un saluto perché poi gli approfondimenti erano fatti dal Vicepresidente Assessore Canziani. Per ringraziarvi della vostra presenza perché questa iniziativa, questo convegno, questa riflessione assume un'importanza del tutto particolare proprio grazie alle presenze che qui oggi ci sono all'iniziale dal Secretario Generale della CGL ma a tutti gli esperti che poi ci produrranno le loro considerazioni e anche all'autorevole presenza etica del Vescovo che all'interno della Conferenza Episcopale Marchigiana segue queste problematiche e rapporti con le istituzioni del Monsignor Menichelli e del Vescovo Monsignor di Senigabia e con tutti voi cercheremo di avere un orientamento rispetto a una norma che ormai è entrata in vigore da due anni attraverso il decreto salvitalia, mi riferisco al famoso articolo 31 prima comma che introduce le liberalizzazioni e su cui è possibile fare una valutazione, su cui è possibile fare un bilancio, un bilancio che come dicevo il sindaco ci porti a fare tutta una serie di verifiche su che cosa è accaduto, se effettivamente questo decreto ha prodotto quello che ci si auspicava che sarebbe accaduto, ovvero un incremento dei consumi, un incremento dell'occupazione, una capacità di allinearci con quello che altre regioni europee hanno fatto, un maggiore equilibrio tra le diverse forme di commercio e vedere se tutte queste cose sono state realmente realizzate. L'analisi che è stata condotta dall'Università Politecnica delle Marche e quindi dal professor Gregorio lo ringrazio tantissimo per il lavoro che fa di accompagnamento e di assistenza con approfondimenti di natura scientifica sulle scelte che la nostra regione produce ci consentirà di entrare nel merito di questi argomenti e quindi produrre al termine una valutazione che io mi auguro possa anche portarci come conferenza delle regioni. Melucci, io lo ringrazio anche il Presidente Vasterrani per la conferenza delle regioni per l'attenzione che pone su questo convegno di erno, ci potrà portare anche a una proposta di legge, iniziativa delle regioni che magari si accompagnerà alla riflessione che i parlamentari vorranno fare nella loro autonomia per un'eventuale modifica del decreto Salve Italia nell'articolo 31 se dovessimo arrivare a delle conclusioni che ci portano in tale direzione. Io vorrei in questo saluto soltanto formulare una considerazione. La considerazione è quella che trae esperienza dall'applicazione della Volkestein in Europa. Non possiamo assumere un principio di carattere generale come se fosse un Moloch. Non è che il fatto che dobbiamo procedere alle liberalizzazioni inevitabilmente poi ci deve portare a un'applicazione darwiniana di questo principio, perché così non è stato con la Volkestein. Io ho visto personalmente nelle frequentazioni fatte al Comitato delle regioni che altri paesi, altri governi hanno trattato con il commissario Barmier l'applicazione della Volkestein in relazione alle specificità territoriali che ognuno di quei paesi al proprio interno aveva e anche la declinazione della Volkestein non è stata così tarwiniana e dragoniana come qualcuno ci si poteva aspettare. La Spagna ci insegna, il governo spagnolo è intervenuto presso il commissario Barmier per appresentare una serie di situazioni che evidenziavano la differenza con cui quei servizi venivano organizzati all'interno di alcune comunità di quel paese. La stessa cosa non siamo stati capaci di fare noi che ci allineiamo fidelisticamente alcuni principi di carattere generale, ma più che per rigore io credo a volte per pigrizia. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare va proprio in questa direzione e è bello che questa riflessione si faccia nelle Marche, perché le Marche hanno un'organizzazione di vita di comunità, un modello di organizzazione civile che è profondamente diverso da quello di altre regioni italiane. Noi abbiamo un'economia diffusa, un modello di organizzazione civile che è fortemente policentrico, non abbiamo grandi condensazioni urbane, questo sicuramente può essere un vantaggio sotto il profilo delle teorie oggi dominati, ma può essere anche un vantaggio per introdurre alcuni elementi critici su una riflessione che rischia di essere molto accantita. Ecco perché allora è importante la riflessione che ci sarà introdotta dall'assessore Gazziani e dal professor Gregori, perché è una lettura che in qualche modo prende in esame il problema da diversi punti di vista e cerca di arrivare a delle conclusioni che possono portarci anche a delle interpretazioni differenziate, in cui esistono delle motivazioni che possono far applicare questa normativa che è un principio secondo esigenze che sono più legate al territorio, più legate alla differenza dei territori. Del resto questa Europa che tutti abbiamo voluto è un'Europa che non si presenta secondo un principio di gerarchia, secondo una logica di attuazione e di applicazione delle norme che dall'alto ricadono verso il basso. È esattamente l'opposto. L'Europa ha fatto la scelta della sussidiarietà. La seconda parte del Trattato di Maastricht, quello che ha introdotto l'Europa, parte dal principio di sussidiarietà e l'Europa afferma sempre e costantemente che la forza di questo continente sta nelle sue differenze. Allora, questi principi di carattere generale dobbiamo trovare in modo di poterli applicare secondo una logica di articolazione e di differenziazione che rispettano i cittadini, le comunità e la storia delle comunità e trovare le motivazioni per poter arrivare anche a una declinazione in sede legislativa che tenga conto e in considerazione di queste esigenze. Io sono certo che attraverso la riflessione autopierna arriveremo a questo e quindi anticipo anche le conclusioni, visto che non potrò partecipare perché purtroppo oggi nella nostra ragione abbiamo un importante come io, sottoscriviamo la commissione con il CERN che è l'istituto di ricerca scientifica casella a Ginevra che tra l'altro oggi celebra i due anni della scoperta del bosone di questa particella del Dio, quindi siamo particolarmente notati di averli nelle macche per sviluppare i progetti cloud, ovvero le piattaforme tecnologiche, informatiche, internet su cui noi appoggiamo i servizi della nostra regione in una prospettiva che guarda a futuro, una prospettiva che ci consente quella flessibilità, quella grande flessibilità che può rispettare le peculiarità di una comunità come la nostra così articolata differenziata ma che potrebbe essere anche una via da riferire, da proporre al resto del nostro paese che ha tante modalità di espressione che devono trovare la loro possibilità di applicazione nella concretezza della vita quotidiana anche per quanto riguarda il commercio e rispetto delle tradizioni di quella che è la nostra storia, guardando peraltro a un futuro che vogliamo sia perfettamente in linea con quel valore fondamentale che abbiamo sempre evidenziato nella nostra comunità che la crescita e lo sviluppo deve avvenire senza fratture, senza la rottura di quel processo di crescita che insieme abbiamo sempre saputo costruire nella vita e nella storia della nostra regione. Grazie a tutti.